Musica Ciao, allora oggi vi mostro l'album numero 4 del Livro Shake valido fino al 5 aprile del 2017 e vedrete tantissime novità e promozioni, soprattutto wow quelle promozioni e vi chiedo scusa fin da subito per una parte di voiceover che ho dovuto fare ma ho perso la clip audio comunque noi ci arrangiamo e direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito a sfogliare l'album Allora, eccoci qui con il nuovo album, andiamo un po' veloci perché ci sono davvero tantissime cose da mostrarvi Prima di tutto, eccola qua, questa offerta perché la coppia perfetta è shampoo e balsamo e li troviamo in offerta, tutte le varianti, ecco, a 5,95 euro Vi faccio vedere, non so, forse in questa pagina qui è meglio, ecco che ad esempio questa comprende il trattamento nutri-riparatore quindi lo shampoo lo prendiamo a prezzo 3,95 con questo codice mentre il balsamo possiamo sceglierlo tra quei disponibili quindi shampoo ad esempio nutri-riparatore con questo codice il balsamo possiamo scegliere brillantezza, nutri-riparatore oppure ricci definiti con l'altro codice e così per tutte le linee, quindi il prezzo finale sarà sempre 5,95 quindi tutte le linee che ci sono, quelle capelli colorati con quelli capelli lisci, capelli ricci e poi cosa abbiamo? Ed è questo che è il 3 in 1 oppure l'antità tutti quanti, purificante, volumizzante, sempre il shampoo ok e poi scegliete il balsamo voi ne mostrano uno per dire, consigliano della stessa linea oppure di linee simili ma comunque li scegliete voi e ci sono anche quelli, eccoli qua, per capelli colorati che io davvero mi trovo molto bene, devo dire eccoli qua, 5,95, sempre shampoo e balsamo ovviamente troviamo quello per nutriente shampoo delicato, shampoo a ripensi d'argento questo è quello, lucentezza di origine vegetale quello shampoo crema delicato, quello per lavaggi frequent ci sono davvero tutti, eccoli qua vediamo ora alla novità di questo album e qui lascio parlare un po' perché si tratta del nuovo gommaggio scrub viso che è una polvere completamente naturale che contiene, come si può dire, tante microparticelli sfoglianti in polvere da aggiungere al nostro detergente preferito così, ad esempio, intanto il flaccone ci dura tantissimo e poi possiamo scegliere il detergente che vogliamo anche in base alla nostra pelle oppure ci serve un'azione più idratante, nutriente in base al cambio di stagione quindi davvero ce lo possiamo giocare noi e trovo che sia una cosa davvero fantastica oltretutto, io devo dire che questo metodo lo uso da tanti anni io uso i noccioli dei vari frutti però bisogna essiccarli e renderli una polvere finissima ci metto tanto tempo quindi questa polvere è fantastica e trovo che sia davvero una grandissima novità i set che propongono sono con, ad esempio, questo idra vegetal con la polvere più il gommage e il detergente idra vegetal a 12,95 oppure col tipo vegetal sempre la polvere più il detergente purificante sempre a 12,95 però davvero si può usare un qualunque tipo di detergente vi mostro ora un set in promozione perché il set pelli da normali a miste ad esempio questo è il set della linea Elixir 7,9 che comprende a 37,95 aiuto il siero doppiazione riparatore anti-inquinamento più il trattamento riattivatore eccolo qua il giovinezza per pelli da normali a miste però si può scegliere anche sempre lo stesso prezzo il set quello per la pelle secca oppure quello per la pelle sensibile cosa cambia? il siero è sempre lo stesso il prezzo è sempre lo stesso differenza è che la crema sarà il trattamento per le pelli secche oppure il trattamento riattivatore per pelli sensibili quindi proprio qualunque adatto al vostro tipo di pelle altra promozione in questo caso è quella delle mani set mani pulite idratate perché a 4,95 abbiamo lo SS mani pulite che è perfetto da tenere in borsetta la portassi dietro per avere sempre le mani pulite e il gel crema idratante a lunga durata novità è un prodotto eccola qua il nuovo lifting siero perché hanno rifatto la formula promette di levigare, rassodare e sublimare il décolleté va applicato intanto è un siero quindi assolve molto velocemente e poi continua la centella asiatica che è perfetta per rassodare e levigare le zone delicate vi mostro ora questa novità perché è una promozione con 25 euro di prodotti maquillage quindi trucco si ha in omaggio il kit di pennelli e guardatelo perché è davvero fantastico ha tutti i pennelli in dimensioni classica più questa pochette perfetta da portare in borsetta oppure in viaggio la trovo davvero molto comoda e soprattutto è anche molto carina 25 euro di prodotti ecco li qua tra tutti quelli che vi mostro quindi il fondotinta, i correttori, gli altri fondotinta c'è davvero tutto eccola l'altro poi c'è la cipria la cipria in polvere la terra i blush i prodotti per nail art tutti i colori di smalto gli altri smalti i rossetti glossy i rossetti questi qua e intratanti matita occhi rossetti altri rossetti più il primer e labbra le matite occhi quella con le matite sovracciglia matita occhi e waterproof gli ombretti tantissimi colori gli ombretti la matita occhi intensa i mascara e la novità questi come si chiamano prodotti occhi jumbo sono gli ombretti jumbo perché guardate i colori che sono fantastici ed è scusate anche le voice off si possono usare come ombretto classico oppure come base per l'ombretto perché si sfumano e poi si fissano oppure anche per tracciare una linea intensa comunque sono tutti molto colorati si sfumano bene ma una volta fissati restano fissi lì i colori sono questi oppure questi perché c'è anche la promozione eccola due matite occhi jumbo a 12,95 la prima col codice nero la seconda col codice rosso come sempre e vedete anche questi altri nuovi colori e siamo arrivati eccola qua questa è la promozione non solo alla fine dell'album ma anche alla fine della promozione con i 25 euro per avere il set eccoci allora abbiamo sfogliato tutto l'album abbiamo visto tutte le promozioni e offerte e novità e dico wow qui sotto come sempre c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini e trovate sempre nelle box informazioni anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così lo potete tranquillamente scaricare sul vostro smartphone pc tablet dove volete e guardarlo con calma e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Rocher